il sudestival è gioventù perché non ho mai visto un festival alla presenza così folta di giovani interessati al cinema questa cosa mi ha reso molto molto felice perché vedere appunto ragazzi andare al cinema così volentieri col sorriso stampato sulla faccia mi ha fatto tornare più felice di fare questo mestiere quindi venite al sudestival mi raccomando grazie